La bella addormentata nel bosco. C'erano una volta un re e una regina che desideravano tanto avere dei bambini. Dopo un po' di tempo dal loro matrimonio finalmente arrivò la loro primogenita. Erano tanto felici che decisero di fare una festa per l'arrivo della loro primofiglia. Alla piccola principessa diedero il nome di Aurora. Era bellissima e aveva dei lunghi capelli biondi. Alla festa furono invitate delle fatine buone e ciascuna di loro portò in regalo qualcosa alla piccola principessa Aurora. Portarono bellezza, grazia, talento e tanta felicità. Però la fata maligna, malvagia, non fu invitata e ad un certo punto della serata ella si presentò alla festa. Malefica per vendicarsi di non essere stata invitata alla festa annunciò con voce severa la principessa al compimento dei suoi sedici anni si pungerà con un fuso e allora morirà. L'ultima fata che non aveva ancora fatto il suo dono alla piccola principessa Aurora rassicurò i regnanti e disse state tranquilli la giovane Aurora non morirà. Il mio dono è quello di farla addormentare per cento anni alla fine dei quali verrà un principe e la salverà. Per proteggere la piccola principessa Aurora il re prese una decisione. Decise di mandare a vivere Aurora nel bosco come fosse una contadina dandole il nome di Rosa Spina e allontanandola dal palazzo nella speranza di poterla salvare. La piccola Aurora divenne presto una bella ragazza a cui però mancavano i genitori quindi decise di tornare al castello e vivere con il re e la regina. Aurora era felice ed era amata da tutti. Crebbe velocemente e il giorno del suo sedicesimo compleanno non tardò ad arrivare. la giovane in soffitta trovò un arcolaio col quale si mise a tessere la lana. Filando si punse ad una mano così il re ricordandosi della maledizione della fata cattiva malefica mise la principessa nell'appartamento più bello del castello affinché potesse riposare. Ma appresa la triste notizia una fata premurosa decise che Aurora non doveva addormentarsi da sola così al suo risveglio poteva ritrovarsi in compagnia del re e della regina e allora fece un incantesimo e fece addormentare tutti gli abitanti del castello servitori, cavalli, topolini, il re e la regina. Tutti iniziarono a dormire e si sarebbero risvegliati insieme alla loro padrona dopo cento anni. Passarono gli anni, molti anni, molti anni, ed un giorno vicino al castello di Aurora passò un giovane principe che abitava in un reame vicino e chiese con molto stupore a chi appartenesse quell'immenso castello. Principe, gli rispose un contadino, nel castello c'è una principessa bellissima, la più bella principessa del mondo. Ella però è addormentata, fu vittima di un incantesimo, di una strega malvagia che l'addormentò per cento anni. Il principe, mosso dal desiderio e dalla curiosità di quanto le aveva appena raccontato il contadino, si diresse sempre più vicino al castello. Nel cortile del castello vidde dei corpi di persone che sembravano morte. Si avvicinò ancora di più e capì che queste persone dormivano. Allora entrò nel castello e cominciò a girare per le varie stanze. A un certo punto vi apparve una luce, entrò in una stanza e vide una giovane principessa, bellissima dai lunghi capelli biondi, dalla pelle molto chiara, dormire beatamente in un letto. Il principe le si avvicinò, la osservò e a un certo punto decise di baciarla. Dopo essere stata baciata, Aurora aprì gli occhi, guardò in viso il giovane principe e teneramente gli disse, siete voi mio principe, vi siete fatto attendere molto tempo. Insieme a lei si svegliarono anche tutti gli altri abitanti del castello. Così tutti si misero all'opera a preparare un banchetto per festeggiare quella giornata. Aurora ebbe il tempo di farsi bella, di pettinare i suoi lunghi capelli biondi, di indossare un abito bellissimo per poter così sposare il suo principe. I due giovani ragazzi vissero per sempre felici e contenti. La fiaba è finita. Cuoricini? E' tardi? E' l'ora del sonno? Dormite stanotte perché domani ritorno. Ciao, buonanotte. Grazie. Grazie.